un saluto a tutti un nuovo appuntamento con spazio svapo oggi parliamo di quattro nuovi aromi di azad adesso tento di farveli vedere tutti e quattro sperando che non cadano eccoli qua questi sono i quattro nuovi aromi di azad di cui parliamo oggi che vi presento quest'oggi allora prima di tutto vado a leggere un attimino quello che c'è scritto sulla confezione sono aromi prodotti tramite processi di decantazione e travasi multipli durati addirittura due anni l'aroma di tabacco non filtrato e veramente senza compromessi pieno e voluttuoso con note e sapori mai sentiti prima la vera quintessenza del tabacco la firma azad lo garantisce questo è scritto su ogni confezione di questi aromi che sono come vedete in uno scatolino di cartone e all'interno troviamo la boccettina in vetro con tanto di pipetta sono da diluire sarebbero da diluire al 12 per cento io vi dico la verità li ho fatti al 10 vabbè insomma ve ne parlo ve li presento uno per uno allora abbiamo il gold america allora prima di tutto faccio una precisazione che mi sembra giusto fare abbiamo degli aromi di tabacco veramente molto 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 pieni già dalla prima svapata sentite qualcosa di veramente notevole proprio dal punto di vista aromatico perché avete tutta la gamma dei sapori di tabacco io non li ho lasciati diciamo maturare per molto tempo azad ci dice che probabilmente dopo un anno avremo forse il gusto più pieno in assoluto e andremo a ricavare degli aromi notevoli io li ho sentiti subito li ho fatti e sentiti subito premetto che già sentiti subito l'aroma è veramente molto pieno tendente un pochettino forse al dolce ma questa è una cosa normale poi con la maturazione dopo un anno addirittura due diventano diventeranno spettacolari questa è la promessa di azad e sulla quale non possiamo non credere conoscendo poi azad quello che dice normalmente è detto questo vi parlo brevemente dei quattro aromi che ho già sentito tutti e quattro allora gold america è sostanzialmente un american blend virginia e kentucky cresciuti e curati nel sole d'america esplodono in sapori inattesi vabbè insomma è sicuramente forse l'aroma più più semplice più all day diciamo utilizziamo questo termine anche se non piace a nessuno però è abbastanza chiaro e quindi è sicuramente un aroma che possiamo utilizzare tutto il giorno senza grosse problematiche perché è molto svapabile è veramente un american blend ma quanto si sente quanto si sente e quante sfumature riesce a regalarci provatelo provatelo è sicuramente forse il più semplice dei quattro poi abbiamo invece vi parlo dell'oriente sono dei tabacchi orientali è forse quello che personalmente mi è piaciuto leggermente meno ma dobbiamo attendere la sua maturazione perché potrebbe anche magari un domani stupirci in maniera incredibile al momento diciamo sentito subito è dei quattro forse quello che mi ha dato meno è però ripeto a un primo assaggio poi altro molto interessante è quello che si chiama old times questo è veramente molto interessante è praticamente un toscano è un virginia toscano cotto a cavendish unito a un kentaki saporito e affumicato in effetti il gusto del kentaki un po' generoso direi in questo caso si sente tantissimo è sostanzialmente un liquido da da belle serate è passate svapando in maniera lenta soft e devo dire che forse posso dire che forse è quello che mi piace di più dei quattro e poi vi parlo dell'ultimo che è il contrapunto qua abbiamo il latacchia che la fa da padrona e qua ci dice vediamo all'assaggio si parte con la tacchia ma repentini gli orientali si intromettono accompagnati da un giusto pizzico di barley a esaltarne le note speziate il cavendish si accomoda in un lungo retrogusto contrappunto un nome non a caso contrappunto di Bach e in effetti qua il la tacchia si sente tantissimo e sapete che personalmente non è il tabacco che amo maggiormente però è molto molto buono e anche questo è da svapare in maniera abbastanza soft magari utilizzando anche un bel bicchiere di whisky ci si sentono tutte le note incensate della tacchia ma ripeto tutti e quattro sono belli rotondi sono belli pieni se volete sentire dei tabacchi belli pieni provate questi azad che si chiamano non filtrati non filtrati di azad aspetta messo la la sigaretta elettronica adesso mi faccio una sua patina ci sta sto usando l'old time però il problema problema è sostanzialmente che gli ho appena fatti cioè gli ho fatti da da veramente poco sentiti subito e sono liquidi diciamo una volta che insomma abbiamo fatto con la roma liquido sono liquidi che vanno svapati nel tempo e quindi sarà bello sentirli che ne so fra tre mesi sarà bello sentirli fra sei sarà bello sentirli fra un anno però già da subito danno soddisfazione in maniera incredibile direi che è tutto per questo video in questo periodo è un po particolare perché magari questo video sarà visto anche prossimamente chissà quando però siamo in pieno in pieno io resto a casa quindi da casa vi saluto e se volete iscrivetevi al canale vi ricordo che lo svapo il futuro e il futuro non si ferma ciao a tutti grazie grazie